Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, per lo speciale 1200 iscritti ho pensato di fare un'intervista singola Quindi oggi sono qua insieme a voi per fare l'intervista singola Spero che vi possa piacere, spero che vi piaccia e potrà dire di iniziare Comunque ora vi state chiedendo, e adesso? Chi dirà le domande? Chi le dirà? Ovviamente, visto che ho l'intervista singola, le dirò ovviamente io Comunque, bando alle ciance, iniziamo con l'intervista Nome, Angelica, data di nascita, 20 giugno 2007 Dove sei nata? A Pieve di Coriano In Lombardia, credo, mi pare in Lombardia il miglior di umano, vai a lettura se non mi ricordo Ti piace fare a youtuber? Sì, tantissimo Quanti iscritti hai? Ho 1200 e qualcosa Sei contenta di aver raggiunto 1000 iscritti su youtube? Sì, tantissimo Sono proprio, sono molto molto felice di aver raggiunto questo mitico traguardo Hai un animale? Sì, come si chiama? Sì, io ho un animale, è un coniglio e si chiama Clover Con cosa registri i video? Io registro i video con il mio telefono Con cosa editi i video? Allora, io i video li edito sempre col telefono con un'applicazione che si chiama Video Show Che marca di telefono hai? Ho il Wiko Fever Quanto sei alta? Un metro e cinquanta circa Quanto pesi? Non lo so, su 30, forse 40, forse 40 circa Forse anche di meno In che classe vai? Vado in quinta elementare Sei felice di aver raggiunto questo traguardo? Sì, tantissimo Sono molto molto felice E se voi avete visto lo speciale 1000 iscritti Vi ricordo andarlo a vedere Troverete Cioè, non troverete il link in descrizione Ma se volete ve lo scrivo qua Il nome del... Il nome del... Come si chiama? Il nome del video speciale 1000 iscritti Perché ho fatto una live E se non avete ancora vista vi ricordo di andarla a vedere Ti è piaciuta questa intervista doppia? Scusate, mi sono sbagliata Intervista Sì, mi è piaciuto moltissimo Come concludi il video? Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like E vi ricordo che dovete seguirmi su tutti i miei social Troverò il nome qua sotto in descrizione Cioè, troverete voi il nome dei miei social qua sotto in descrizione E vi ricordo Se non avete ancora acquistato le mie magliette, tazze, cover, felpe, eccetera, eccetera Andate su shop.spreadshirtkawaii Angelica Kawaii Che troverete il link qua sotto in descrizione Io vi saluto TvB a tutti E ci vediamo al prossimo video Ciao Scusate se questo video qua durerà pochino Però oggi ho molti impegni Ciao Ciao